Ciao a tutti dal vostro PokéFan99 Oggi vi spiegherò un problema che ho Per giocare alle battaglie Soddy Apro la cartella In cui ho due In cui ho due Due download che ho fatto Ok, ne ho due Che cos'ho uno? Ovviamente Ho scaricato Java Se mi potete aiutare Vi ringrazio Possiamo aspettare che Java Eccola, l'ha aperto Noi facciamo i segui Ecco, è uscito Ecco Come facciamo tutti Noi devo andare su Nomo Team Uscirà questa Questa schermata Noi dovremmo vedere Ok Come vedete Qui uscirà la schermata Per Per formare una squadra Per esempio Io metto Kitarzor Select E qui Comparirà l'immagine Di Kitarzor Ecco Noi metteremo Shiny Metteremo Metteremo gli attacchi Vabbè Adesso io faccio Taglio il pezzo Perché voglio fare una squadra Ok Ho completato La squadra Kitarzor Riquizzar Gerizos Lucario Gallede Hazel Adesso Come con tutti Faccio Toll Usa Tutte Dai Ecco Esci Riquizza Kenji Treto Venti Che cosa devo fare? Provo a mettere questo Il primo Adelf Ecco Ora mi esce questo E provo a mettere salva Ma non salva niente Che cosa posso fare? Vi prego Aiutatemi Commentate Votate Iscrivetevi Ciao Ciao